Uno schifo, perché non si riescono a prendere le linee, quindi speriamo che riusciamo a fare una buona diretta, adesso guardo se ci siamo online, così vediamo un po' come siamo messi, ma vedo che già ci sono tre persone, quattro, allora vuol dire che siamo online. Ok, sempre solo, che fa finta di star male, il buon Matteo, che non è vero che sta male. Allora, oggi parliamo di surfcasting, una pratica che io sono espertissimo, no non è vero, per niente, e allora abbiamo chiamato due guru del surfcasting, che sono Lorenzo, che lo vediamo qua, che adesso due, uno, eccolo qua. Ciao a tutti. Ciao Lorenzo, e poi il socio, penso, di pesca e di mangiate bevute. Sì, sì, un compagno, compagno di pesca. Simone, che lo facciamo, tre, due, uno, voilà. Buonasera a tutti. Ci siamo. Simone, ci senti? Sì, vi sento. Perfetto, allora, non so se ci vediamo tutti, non so se ci vediamo metà, l'importante è che ci sentiamo, in diretta sto guardando, ci siamo tutti, quindi, io direi, intanto, parliamo di Adriatico, perché voi siete di, diciamo questo... No, io sono dell'Adriatico, Simone invece... Il Martireno. Ah, quindi tutte e due stasera, ci sciagliamo proprio due mari. Ora sì, è una bella carrellata. Oh, perfetto, allora, diciamo che come buttarla lì, potremo vedere un po' anche le differenze, perché chiaramente l'Adriatico è noto per essere molto profondo, vicino riva, viceversa, il terreno è molto basso vicino riva. No, scherzo. Vediamo così. Dai, io direi che partiamo, non lo so, Lorenzo, da cosa vogliamo partire? Da... mi dici tu magari, o andiamo a periodo, se vuoi, quindi non so, parliamo di self-casting invernale, se cambio qualcosa, oppure a specie, vi lascio scegliere, quello che potete preferire. Vabbè, possiamo fare una guida, diciamo, più periodica e magari confrontiamo i due mari e poi vediamo cosa viene, insomma. Dai, va bene, perché poi ricordo a tutti i nostri che già stanno commentando, sciopero, sciopero, sì, Matteo, in sciopero, non stai male, non far finta di... Poi, c'è già Orazio Amato, che chiede, secchia come stai? Bene. Mi colore sempre, un saluto a tutti da Luigi di Stazio, quindi ne abbiamo già di gente operativa. Poi, ricordo che mi lasceremo il video della diretta su Fisci Mania la pagina, lo metteremo anche su YouTube e lo abbineremo a un articolo, quindi diciamo che non lo faccio sparire, vi può essere come guida per il futuro da self-casting. Quindi vi lascio, perché io parlo tanto poi. Ciao, via, chi comincia? Lorenzo, vai. Va bene, cominci te, Lorenzo. Vai, parto, parto io. Vai. Allora, partiamo intanto nel dire che comunque la differenza tra il mar Adriatico e il mar Tirreno è abbastanza sostanziale, nel senso sono due mari molto diversi, poiché l'Adriatico comunque è un mare molto più chiuso, molto più stretto, che risente molto dei cambiamenti climatici, per cui l'acqua d'inverno si raffredda prima, si raffredda anche di più rispetto al tirreno o al Mediterraneo e di conseguenza noi abbiamo il deficit che da, diciamo, metà novembre, fine novembre, fino a tutto marzo, di pesce su sottocosta ce n'è veramente poco. Ce n'è poco, però nel periodo invernale, diciamo, ci possiamo dilettare nella pesca alla spigola. Spigola e qualche sarago sono gli unici pesci che riusciamo ancora a catturare anche d'inverno. Ok. E, tra l'altro, è anche il periodo migliore, insomma, quindi non ci lamentiamo. Potrebbe andare anche peggio, ecco. Ah, potrebbe? Ah, ok. Comunque no, al di là di tutto, è un marzo abbastanza generoso, comunque il pesce c'è, però magari se tu a gennaio e a febbraio vai a pesca dalle tue zone, magari la becchi. Da qualche anno a questa parte, con il freddo, arrivano le mormore, che è un pesce atipico per quel periodo dell'anno, ma nel mese di gennaio e febbraio, nelle zone dirreniche, soprattutto nel tirreno centrale, si riscontra una grande presenza di mormore, soprattutto quelle più grandi, che quando la stagione dovrebbe iniziare, che sarebbe quella estiva delle mormore, purtroppo spariscono. È qualche tempo che a gennaio e febbraio, quindi l'inverno, si possono fare ottime pescate di mormore. O le classiche pescate di spigoli o di tarachi, quando il mare è più formato. Questo forse in Adriatico non accade, magari fra qualche anno accadrà in Adriatico e qui da noi scavolge la situazione, non lo so. Da noi c'è stata una tendenza ad anticipare, cioè ho visto che nel corso degli ultimi due, tre, quattro anni, se prima le prime mormore iniziavi a prenderle a, diciamo, aprile, fine aprile, adesso già a fine marzo, inizi di aprile, iniziano ad accostare, quindi si cominciano a prendere. Qualcosina, diciamo, è cambiato, però ciò non toglie che noi del periodo invernale l'unica pesca che si può praticare è quella col mare mosso, mare formato, scaduta, mareggiata piena, per prendere qualche spigola, quindi è quello che molti fanno, insomma, l'inverno da noi è così, si va a spigola e punto e basta. Noi allora siamo fortunati che possiamo fare un po' di tutto durante l'inverno. Mi piace questo rimpallino che è di sfida della colpa. Non che l'estate non le prendiamo le mormore, però più andiamo avanti con la stagione, quindi più arriva il caldo, la taglia di questi pesci diminuisce e diventa sempre più piccola. Calcoliamo che l'agosto quasi sei costretto a non pescarle per quanto sono piccole. È vero sì che ce ne sono moltissime, però sono veramente piccole. Questo anche da noi. Si parla di una taglia, non so, qui in quanto più o meno? A gennaio-febbraio la taglia media è dai 28 ai 33 centimetri, mentre ad agosto dai 10 ai 15 centimetri. Quindi seguono, almeno io da ignorante in materia softcasting, seguono le correnti più fresche, quindi quelle grosse. Per la loro riproduzioni preferiscono le correnti più fredde. La corrente più fresche. Perfetto. Non lo so, se volete andare con questa sequenza temporale, quindi diciamo gennaio, abbiamo visto che le prendi, se andiamo avanti così, se no poi come volete, cioè con montature e roba varia. Intanto io vi sto stoccherando i profili per prendere un po' di foto. Allora, Simo, come le prendete le spigole da voi? Con che sistema? Tipo di mare, tipo di vento, esca? Allora, il vento principale, che è quello che la fa da padrone in tutte le pesche, non solo quelle della spigola, dell'orata o della mormora, è lo scirocco, che è un vento caldo comunque. E con queste situazioni di vento e mare formato si possono fare grandissime pescate, soprattutto la spigola, che viene insediata in diversi modi. Con mare scaduta, principalmente, se la si pesca con il vivo, hai qualche marcia in più. Mentre con mare montante o in fase di stallo, esche come il cannolicchio, l'americano, la seppia, comunque esche morte, esche ferme, sono rivelate più redidizie. Ok. Bene. Invece da noi è veramente molto diverso, perché è vero che con lo scirocco o comunque i venti da sud qualche spigola la prendiamo, però nel corso degli anni ho visto che il mare che piace di più al pesce è il vento da maestrale, trecale o levante, quindi tutti i venti che provengono da nord a nord est, insomma. Ecco, vedi che cambia. Intanto è arrivata una domanda già, che chiede, quindi facciamo una pausa se volete, oppure finiamo il discorso e rispondete dopo. Chiede Lorenzo, ho comprato la Esprim Surf, cosa puoi dirmi? Espira. Espira. Espira? Eh, ok, sì. Io leggo Esprim, però penso che sia Espira, sì. Forse è sbagliato. Oppure il correttore ha corretto male, chiaramente. Eh, oppure se è Espira, una buona canna, canna pesante per fare appunto questo tipo di pesca, pesca invernale, canna di fascia media, insomma, non è né il top né una canna, una cannaccia, insomma, una via di mezzo. Ok, via, continuiamo allora, poi se ha bisogno di altre domande ce le fa. Quindi, dicevamo, da noi cambia in pratica all'opposto il tipo di vento che il pesce predilige, diciamo che, sì, anche noi, molti vanno in fase di scaduta di mare, anche se io preferisco leggermente l'alzata di mare, se non è troppo violenta. Ok. Perché l'acqua rimane più pulita, c'è meno sporco, tutte condizioni che mi piacciono un po' di più. E come esca, l'unica esca che da noi si usa poco è il vivo. Forse perché non abbiamo possibilità di acquistarlo, per cui le esche che vanno per la maggiore sono bibi, bibi di coffa, seppia, cannolicchio e americano. Però io quando vado di genere seppia e cannolicchio uso. Simone? Sì, volevo fare una domanda a Lorenzo, a proposito di queste esche. Da noi nel Tirreno una cosa fondamentale è il punto di marea. Cioè, i pesci più grandi mangiano con il picco di alta marea o con il picco di bassa? O comunque nelle ore molto vicine a questo evento? Da voi è la stessa cosa o è indifferente? Allora sì, ho visto che nella fase montante di marea fino al culmine di alta è il momento migliore. Il momento migliore però per essere migliore, migliore, migliore deve essere accompagnato al cambio di luce. Quindi Alba e Stramonto sono i momenti che pagano di più. Le condizioni perfette praticamente. Però si riescono a beccare, insomma. Infatti io sto facendo la domanda, ma si riescono a trovare queste condizioni? Comunque voglio dire, io parlo di marea montante, comunque non è che dico, che so, alle 16 alta marea, quindi alle 16... Diciamo è magari un'ora prima e un'ora dopo, per cui il lasso di tempo c'è, si riesce a... Sì dai, chiaro, poi dopo il culmine di alta marea va bene anche tutte le altre ore, però io le prede più belle me le ricordo sempre durante i cambiamenti di luce. Confermi anche tu Simone? Sì, sì, confermo. Alta marea e cambiamento di luce, o bassa marea e cambiamento di luce, sono le condizioni perfette qui, quindi non posso che non confermare. Ma visto che siamo sulla spigola, montature, che io proprio... Cioè, montature particolari, c'è una montatura che va meglio di un'altra? Diciamo, con il vivo si pescano con... Io preferisco pescarne con un semplice piomba spike, collegato alla lenza del muninello, alla lenza madre, tramite un moschettone. E nell'adola del piombo, nell'aggancio del piombo, collego un altro moschettone con un bracciolo di circa due metri, dove attaccherò l'escaviva. Preferisco un attacco così, anziché un attacco alto, che dovrebbe essere l'attacco principe per la pesca alla spigola, perché quando il pesce mangia si ferra direttamente e va direttamente al piombo. Quindi hai una ferrata più facilitata. Mentre se pesco con esche morte, come i vermi, o pezzi di pesce, seppia, cannolicchio, eccetera, uso un attacco alto sempre con un bracciolo molto lungo, di circa due metri. Di diametri possiamo partire da un 0,25 fino ad arrivare anche a un 40 per la pesca con il vivo. Sì, io la penso uguale. Per me attacco alto, il bracciolo non lo faccio molto lungo, perché comunque qui da me le correnti sono un po' più insidiose che delle vostre. Cioè, nell'Adriatico si sta in pesca molto peggio col mare mosso rispetto al tirreno. Questa è una cosa che ho visto in diverse occasioni. Per cui il bracciolo, di solito, se lo faccio lungo, lo faccio su un metro e venti. Per il resto, sì. Io, finale, 0,40 sempre. Perché tanto in mezzo alla turbolenza, voglio dire, grosse differenze tra un 28 e un 40 non ci sono. Però, se prendi il pesce grosso e poi stai magari su una spiaggia profonda, ciottolosa, che noi ne abbiamo diverse, e lì, quando ti entra lo shock reader in canna, devi andare in un po' di ignoranza. Se no, poi il pesce ti comincia a fare come vuole. È dura, è dura. Quindi, una volta che ti entra lo shock reader in canna, devi avere pure un terminale ironio per poterlo forzare. Chiaro. Allora, intanto, scusa. Vai, vai, Simone. Questa potrebbe essere un'altra differenza tra l'Adriatico e il Tirreno. Cioè, noi qui non abbiamo uno scalino pronunciatissimo. Quindi possiamo permetterci anche di pescare con fili più stottili. Perché tanto il pesce non bisogna forzarlo più di tanto. Mentre da loro, che c'è un gradino molto accentuato, a volte giottoloso, c'è bisogno del filo più grande. Se no, il pesce lo lascio lì. Non è vero, è vero. Allora, dicevo che intanto è arrivata la mia spalla per questa sera. Che ve lo presento. Il buon Valerio, che è lui ormai la mia spalla di queste serate che arriva. Intanto lo facciamo entrare. Buonasera, collega. Buonasera, ciao. Eccoci qua. È la mia spalla, che così farà anche lui domande, mi seguirà con le cose. Così, almeno. Poi, allora. Intanto c'era qualcuno che chiedeva. Ho visto che ha già risposto Matteo. Sappiamo se il 3 maggio si può tornare a pescare. Non hanno ancora detto nulla. Io spero di sì, però aspettiamo che mandano... Cioè, ho visto che fanno anche tantissime altre le dirette, vediamo cosa succederà. Tanto non si sa una mazza, nel senso che finché... Cioè, possiamo fare anche la diretta, ma non ha senso finché non abbiamo una delibera del governo. Quindi speriamo... Quando arriverà una delibera, tanto siamo qua. Lo sappiamo, faremo una diretta con la delibera in mano e diremo cosa si può fare e cosa no. Adesso, ragazzi, aspettiamo. Tanto noi siamo qua, ci chiacchieriamo, spariamo quattro cavolate e siamo tutti insieme amichevolmente, dai. Non si sentiva Valerio. Valerio, prova a urlare un po'. No, non si sento. Aspetta che prova ad alzarti il volume. Prova. Non si sente niente, Andrea. Eccolo lì. Ok. Perfetto. Ciao. E' ritornato. Andiamo avanti. Vai. Allora, andiamo avanti. Spigola, dobbiamo ancora dire qualcosa? Penso che abbiamo detto abbastanza... No, possiamo solo dire come in genere le cuciniamo, ecco, al massimo. Ah, quello è vero, eh. Quello, tra l'altro, poi, anche pure è buona. Non lo so, dai, possiamo lanciarla. Come la preferita, la spigola? Pruda. No, dai, scherzi a parte. Passiamo magari a qualche altra specie, allora. Allora, abbiamo fatto il periodo invernale, avviciniamoci alla primavera. Primavera, diciamo, il risveglio della natura, riniziano ad accostare qui nell'Adriatico parecchie specie di pesce. Sia pesce di galla che pesce di fondo. Pesce di galla, aguglie, occhiate, sugarelli. Pesce di fondo, mormore, ombrine. Ombrine, specialmente se c'è un po' di acqua sporca o qualche fiume che ha buttato un po' di sporco in acqua. E qualche orata. Però, ecco, il pesce prevalentemente che si cattura a primavera sono le mormore. E se ne prendono parecchie. Le prime che arrivano sono le più belle e se ne prendono molte. Poi, mano a mano che ci si avvicinano all'estate, cominciano un po' a calare. Divendono più piccoline, se ne prendono meno. E poi si arriva in estate piena che se ne prendono poche, poche, poche. Per poi riprendere più in là, verso settembre. Simone? Sì, nel Tirreno la situazione più o meno è molto simile. Inizio primavera ci sono sempre le mormore, anche se l'Italia è leggermente più piccola rispetto a quelle invernali. Poi c'è l'entrata di pesce di galla, come possono essere i sugheri, boche, qualche lecce a stella e qualche aguglia. Per quanto riguarda invece i pesci più importanti, in primavera qui nel Tirreno comincia a uscire qualche bella orata. Che soprattutto, ecco, con i venti di Sudest si ha la possibilità di catturare. Ah, la regina quindi arriva. Sì. L'oratina. Ascolta, l'orata. L'orata. Ecco, quindi proprio periodone quello. Proprio inizia il periodone. Allora, domanda, Lorenzo, mi dicono che hanno visto un video che hai fatto sulla costa croata. Potrebbe essere molto più simile al Tirreno, la parte orientale dell'Adriatico? Prima domanda. Allora, la parte dell'Adriatico Nord. Allora, intanto, se l'Adriatico, diciamo, italiano è più freddo rispetto al Mediterraneo, l'Adriatico della Croazia è ancora più freddo. Ok. L'acqua è ancora più fredda. Allora, lì è tutto totalmente diverso, perché comunque in Croazia trovare una spiaggia è pressoché... È vero. Sì, è quasi... perlomeno da quello che so io, io... Ci sono spiagge di riporto, però, cioè nel senso che hanno... quindi spiagge, spiagge, io ne ho viste ben poche quando sono andato. Le spiagge sono scogliere, per cui lì, anche chi fa le gare in Croazia, non fanno gare dalla spiaggia, fanno surfcasting, ma fanno una specie di pesca a volentino dalle scogliere. Quello fanno, perché spiagge effettivamente ce ne sono pochissime, ecco. Sicuramente lì è il mare molto più vario, perché hanno tantissima roccia, per cui tra orate, saraghi, dentici... Diciamo che la pesca lì è un po' diversa, insomma, non è... non è quella che possiamo classificare proprio surfcasting. Lì è più un rock fishing, molto bello, perché effettivamente è molto bello, però dire che è più simile al terreno, no, non mi sento di dirlo. Ok, infatti poi chiedeva qualche consiglio su come si può affrontare, specialmente la parte nord dell'Istria, che è molto rocciosa. Quindi un po' l'hai già detto... Su quel video che ha visto eravamo lì, perché eravamo all'isola di Kerso, quindi quella zona lì, insomma, per cui... Intanto lo cerco, così lo mando. Poi c'è, vediamo... ah no, vabbè, Francesco Franciamore, che penso che conosca qualcuno, e dice... Simo, rilassati che ti vedo teso. No. Ma no, è rilassatissimo, è bravissimo, quindi... Non c'è problema, siamo tra amici, nessuno è teso. Boh, andiamo avanti, dai, allora stavamo parlando... Simone, ti ho interrotto per una domanda, parlavi che arrivano le orate, quindi. Sì, anche se si passa dall'articola direttamente all'orata. Questa si può pescare molto semplicemente con un mono amo, sarebbe un trave, un amosolo, con braccioli molto lunghi, che... stiamo parlando di una lunghezza che va dai due metri e mezzo ai tre metri. E questa si pesca... nel Tietreno si pesca prevalentemente con esche come il granchio, il bibi, l'americano o la cozza. Poi dipende dalla stagione, nella stagione più calda è più facile prenderle, da come ho provato io, con la cozza. Mentre nella primavera granchio, bibi, americano la fanno da padrone. E questa pesca non è come si dice nelle dicerie, che l'orata pascola solo a lunghissime distanze dalla riva, quindi solo alcuni la prendono, ma si possono prendere anche molto vicine, cioè a distanze anche di 50 o 60 metri. Non so, nell'Adriatico se arriva... Allora, intanto, l'Adriatico è povero di orate, cioè è un pesce, diciamo, abbastanza occasionale. Sì, quelle piccoline a volte capita di prenderle in mezzo alle mormore, ma quelle belle, diciamo, dal chilo in su sono pesci praticamente inesistenti, sotto costa, perché poi se va in barca su qualche vecchio allevamento, sotto qualche piattaforma del petrolio, dove non si può andare, comunque lì ci sono anche grosse. Però in spiaggia, io non capisco perché, ma non si prega. Io la più bella che ho preso facevo circa un chilo qualche anno fa, era di vero pieno, in mareggiata, e stavo appetacciato. Ma è stata l'unica di nota che ho preso in tanti anni. Però è vero pure che io ho pescato orate diverse volte nella zona del Tirreno Sud, quindi tra Castelvolturno, Mondragone, Baia Domizia, lì effettivamente le orate le prendono solo a lunga distanza e effettivamente molte persone vanno in barca, vanno in barca perché si prendono appunto il periodo caldo, quindi giugno-luglio, che in spiaggia fai difficoltà a pescare e quindi ci vanno in barca, con un barchino stupido, ci allontanano 200 metri dalla costa e pescano il carroccio e le prendono grosse poi, pesci da 2, 3, 4 chili, veramente bello. Anche qui c'è un altro video fatto qualche anno fa. Sì, io li sto prendendo nel coso, quindi li manderò un po' a rinforzio. È questa, è questa, è questa. Tanto perché vogliamo farci male, mandiamo questi video, no? Perché proprio siamo masochisti fino in fondo, mandiamo questi video che magari si riusciranno a fare a presto ancora. Bene, andiamo avanti, allora, pian piano stiamo andando avanti nell'anno, a questo punto. Arriviamo, quindi fine primavera, diciamo? Fine primavera, arriviamo all'estate, che comunque grosso modo rispetto alla primavera non è che cambi poi molto, diciamo. Le prede sono più o meno le stesse, ma arriva uno dei pesci più interessanti che possiamo catturare d'estate e che ci può regalare anche qualche bella emozione, il Serra. Ecco, il Serra. Certo. Serra... Perchè negli ultimi anni ci avete superato nell'Adriatico? E poi è una cosa... A livello di presenza. È una cosa bestiale perché, cioè io, da quando che vado a pesca, diciamo, Serra mai visti, insomma. Sì, vabbè, in qualche posto d'Italia sì. Poi negli ultimi 5-6 anni sono arrivati pure qua da noi, tutti e quatti quatti e stanno facendo una strage di tutti gli altri pesci, tant'è che ormai parecchie persone ci vanno a pescarli, poi chi li pesca a spinning, chi li pesca a train in barca, ma pescarli a surf di notte è micidiale perché danno certe legnate alle canne, certe partenze, è veramente bella come pesca, molto bella. Ed è anche una pesca economica perché si fa con una spesa di esca veramente irrisoria per cui vale la pena. Sì, è anche qui da noi. Qualche anno fa c'erano di Serra veramente mostruosi, adesso con il passare degli anni nel Tirreno la taglia del Serra sta sempre diminuendo, cioè parliamo che circa 4-5 anni fa si prendevano Serra di taglia minima da un chilo e mezzo, finiva ad arrivare a 5-6 chili, adesso la taglia media di un pesce zero qui va dai 8 etti al chilo, cioè se lo prendi più grande sei abbastanza fortunato. E' vero che ce ne sono molti? No, qua da noi la taglia è buona, cioè si prendono anche pesci di 4-5 chili, poi dipende molto dalla serata, magari c'hai la serata che vedi tanti piccoli attacchi ma non ci rimane nulla e la serata che c'hai magari un attacco e prendi un pesce grosso e la serata top che magari c'hai 7-8-10 mangiate e prendi 4-5 serra dai 2 ai 5 chili, pesce belle. Ah però, sì, capitano queste serate. Capita, capita. Sì, soprattutto io ho riscontrato questa cosa che con la luna piena o con parecchia luna le mangiate di serra aumentano e che in presenza di luna la pesca con il vivo si rivela molto efficace, mentre quando la luna non è presente la pesca più efficace è quella fatta con il trancio che può essere o di muggine o di spigola. A volte se finisce l'esca è anche il stesso pesce serra, cioè sfiletti un pezzo di pesce serra e lo metti come esca. Sì, comunque la facciamo per lo più con il morto, col vivo, io non l'ho mai fatta ma non credo che qualcuno a Serfio lo abbia fatto. Trancio di cefalo, trancio di mormora, di spigola, praticamente ho visto che la sarda non tanto gli... No, la sarda no. La sarda non gli piace, però... Schifano la sarda, incredibile, schifano la sarda. Sì, anche mai presi con la sarda. Non l'avrei mai detto. Ah, serragolotti, bravo. Per la maggior parte con muggine e filetto di spigola. Guarda, io qualche anno fa ho fatto caso a una cosa, e comunque, anche se sono pesci abbastanza, no, molto voraci, sono comunque sensibili all'olfatto, perché io qualche anno fa avevo preso dei cefali nel porto, da noi il porto se prendi un cefalo e lo apri, proprio pussa di porto, cioè un pesce in mangiare. Però io li avevo congelati per andarci a pescare a serra. Allora vado a pescare insieme a un amico, buttiamo giù tre, quattro canne a testa, ora non ricordo. Allora, il mio amico appena cale il sole comincia uno, due, tre, quattro, cinque pesci, io neanche una mangiata, allora al momento il dubbio mi è venuto, dico, ma non è che sono questi cefali che porca miseria puzzano di porto, i serra non se li mangio, ma vado da lui, gli dico, guarda, mi dai un cefalo tuo, questo mi dà il cefalo, sfiletto, cambio l'innesco, lancio, boom, subito. Quindi olfattiva, di bestia proprio. Io penso di sì, da quello che ho potuto vedere, però, che ci può essere? Eh, certo, è possibile. Sì, è possibile, è possibile. Voi come li pescate, con che sistema? Li peschiamo con il vivo, la teleferica, che consiste nel lanciare un piombo nell'acqua e mettere un bracciolo tramite un moschettone con un pesce vivo. Il pesce vivo può essere una mormora, mormora molto apprezzata dal serra, soprattutto di notte, oppure di giorno potremmo metterci delle aguglie, che è l'escaprincipe, o dei semplici cefali. Mentre se parliamo di trancio, se non c'è la luna, usiamo il trancio, da qualche anno a questa parte, mentre prima o di giorno si pescavano con il trancio e di notte con il vivo o viceversa. Va bene, il trancio comunque lo facciamo di cefalo, di mormora, o comunque di qualsiasi pesce che sia a disposizione. Cioè, se stiamo pescando dei mormori... C'è Daniele Caravaggio, che ovviamente, scherzando, dice con il gronco, ma intero il gronco, tutto un gronco intero. Allora, vai, vai, scusa, Simone. Dicevamo, con qualsiasi pesce che abbiamo a disposizione, perché molte volte capita che stiamo pescando pesci come le mormori, sugherelli e li troviamo tranciati. Quindi a quel punto ci organizziamo, spilettiamo un pesce appena pescato, lo lanciamo e molte volte si prendono così. Eh sì, a volte capita, capita, come no? Chiaro. Allora, abbiamo una... Allora, intanto Anto... Loidi... Sì, buonanotte. Antioco, lol, che penso sia da Santo Antioco perché parla di Sardegna, dice in Sardegna anche con la sardina. Quindi vedi. Buona sapenza. Ci può stare, quindi sappiamo già che nel caso di giro in Sardegna ci può essere anche la sardina. Io lo so che la sardina la mangiano, perché a Lampedusa diverse volte le ho prese con il trancio di alaccia. Però, qua da noi, la sardina non la voglio sentire. Mi spiace tanto. Ah, vabbè. Non gli piace. Non gli piace. O sono sardine che non sono buone. Può essere che hanno un sapore che non gli piace. Cambia l'acqua e via. Allora, ho una domanda di Giuseppe Nuccio, che dice... Lorenzo, parlami del monofilo della Colmich multicolore con shock inserito senza nodini. Sono Giuseppe... Ah, scusa, quindi dice... Sono Giuseppe il siciliano trapiantato a Treviso. Ah, che giro! Ah, ho capito chi è. No, no, ma lo conosco. Lo conosco. Lui dovrebbe parlare del Tapred, se non sbaglio. Del Lulz. Del Lulz. Poi, se abbiamo delle alghe o dello sporco in acqua, sicuramente ne prendiamo molto meno. Poi il fatto che comunque sia multicolor ci dà un riferimento in più quando siamo a pesca. Io direi che in gara è ottimo. Cioè, è un ottimo filo. Io, secondo me, sono due o tre anni che nelle canne da beach utilizzo sempre 16-37 per fare la pesca medio-lulz. Cioè, da corta fino a media distanza, per piombi fino a 100 grammi. Quindi valido. Valido anche nelle misure grandi, perché d'inverno spesso uso il 26-57. In quel caso lo uso proprio perché, non avendo il nodino dello shock, d'inverno comunque le alghe col mare mosso è facile che le becchie. Ed è molto comodo, perché comunque l'alga, quando tu hai il pesce grosso sotto al gradino, se stai solo, perché io spesso vado solo, e c'hai l'alga sul nodino, il pesce si punta sotto e comincia ad essere problematico. Invece, col filo conico, tu recuperi tutto, se c'è l'alga, poi ti scende in fondo e tiri su alghe, rami, pesce, reti, stracci e non si fa problemi. Ecco, perfetto. Possiamo andare avanti. Valerio, hai qualche domanda, magari, che ti è venuta in mente o se no procediamo? No, no, procedere io... Tu stai tranquillo, diciamo che non lo pratico. Però ho visto Lorenzo una volta pescare a Casalbordino, e l'ho guardato, perché i miei parenti fanno quasi tutto surfcasting. Ma lì già è la tecnica di lancio, da quanto ho capito... Infatti, poi volevo chiedere anche un po' di roba lì, perché io proprio, ignorante in materia, no? Vedo, fare sticaccio di lancio, mi domando sempre, uno, come cavolo si può fare, e due, quanto cavolo riescono ad arrivare lontani. Infatti, dopo, finiamo la panoramica, questa è la mia, proprio, sai, il bambino che vuole lecca-lecca, voglio capire tutte queste cose. Siamo a fare la carrellata stagionale e poi dopo... Sì, 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 via, 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 andiamo, che mi piace. Allora, Serra, poi d'estate, Simone, che si può prendere? Serra? Cioè, di buono... Le mormore sono minuscole. Il mormore è piccolo. Qualche orate di giorno? Come? Le orate di giorno. Le orate di giorno, però il problema è che... Comenteranno sicuramente di quantità rispetto alla primavera, cioè, il periodo clou è l'estate. Eh, ma il problema è che d'estate... Come fai? Sono i bagnanti. Devi essere fortunato che hai delle spiagge in cui non c'è grande presenza di bagnanti. Ah, poi anche a livello di ordinanze di capitolia di Porto, capito? Io sono fortunato che qui vicino da me c'è una spiaggia in cui c'è divieto di bagnazione perché non ha una strada e quindi non c'è il bagnino e quindi non ci va nessuno al mare. Sono fortunato che ci va la pesca l'estate. Questo si dice culo, non fortuna. Allora, quindi arriviamo autunno. Autunno, le mormore iniziano a tornare a dimensioni accettabili, anche buone. L'autunno, secondo me, il periodo che va da settembre fino a metà ottobre è il periodo per pescare, diciamo, anche a livello agonistico, è il periodo migliore. Primavera e autunno, ma l'autunno ha una varietà di prede differente. Oltre alle mormore, da me si avvicinano anche le gallinelle, vanno ad annato. Però sono pesci interessanti, sono pesci anche molto buoni. Quelli sono pesci che prendiamo con una lenza classica come quella per le mormore, però ci vogliono ami più grandi e inneschiamo o il tocco di sarda oppure un tocchetto di aguglia. La differenza tra la sarda e l'aguglia è che l'aguglia è talmente dura che la puoi lanciare anche senza legarla col filo elastico. Invece la sarda la devi legare. Poi, verso la fine dell'autunno, si riprende intanto ad andare con qualche mareggiata in cerca di spigole, però c'è pure qualche passo in alcune zone di ombrine che a volte raggiungono anche delle misure discrete, pesci che vanno dal chilo, chilo e mezzo, anche due chili. Poi lì occorre avere un po' di fortuna a beccare proprio la zona, la serata giusta perché magari mi è successo che vai una sera, ne fai tre, quattro, vai due sere dopo, condizioni simili ma non uguali e non ne prende neanche una per cui è tutta una cosa abbastanza così. È la pesca. È la pesca e con fasi di scaduta pure qualche bel sargo si comincia a vedere. Per me l'autunno è il periodo più bello, diciamo, più catturante, più vario, più interessante. Sì, anche da me è abbastanza interessante l'autunno perché ci sono moltissimi pesci di galla, quindi stiamo parlando di lecce stella, aguglie, qualche cevalo, qualche stugerello, mentre per quanto riguarda le mormore sì, ci sono sempre quelle piccole che comunque restano dall'estate, però in mezzo a quelle ci si può trovare anche qualche bella mormora. Cioè stiamo parlando delle mormore che si prendono a gennaio-febbraio. Più andiamo avanti, quindi metà autunno, fino a autunno, si fa la pesca della lampuga. Ah, la lampuga! Hai detto un nome che io accendo le lampadine da tutte le parti. Cosa? Da qualche anno sono diventati anche grandi perché si cominciano a prendere la lampuga e vanno dai 3 kg ai 5 kg, mentre qualche anno fa se prendevi una lampuga a un chilo era grande. Comunque la pesca della lampuga, che si pratica prevalentemente dalle scogliere, con il vivo, sempre con la teleferica, come si pesca nei pesci di serra, ci sono due settimane l'anno, all'incirca, dove queste avvengono praticamente fino ad autunno. Ci sono sempre un paio di settimane che c'è uno stato di mare, che il mare è quasi sempre calmo e quindi arrivano questi pesci. E li peschiamo con la guglia, al 90% con la guglia. Possiamo poi metterci un cefaletto, però la guglia è la guglia. Se si riesce a fare la guglia, una lampuga è quasi assicurata. Maggia, mi sto venendo... Ah, quando sento lampuga sono peggio di un bambino con le calette. Cacchio, io la lampuga è un pesce che amo tantissimo. Ho visto, ma spinning... La padrone non la fa il self-cutting, la pesca con il vivo, la teleferica, la scogliera, metti lì, nelle ore calde della giornata, metti la guglia e quasi sicuramente prendi la lampuga. Ah, sì, ma tu mi parli da riva, pesca da riva, è difficile lo spinning, chiaramente. Eh, lo so. Però, no, ci vanno, però le prendono, ma non ne prendono mai quante il vivo. Comunque le scavano. Sì, è chiaro, 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 chiaro. E le scavano. La lampuga, ci può cazzare il Serra, che il Serra ormai qui è diventato una B2E perché è presente tutto l'anno praticamente. È presente anche l'inverno. Basta che c'è una mareggiata di vento caldo, sempre lo scirocco, lo scirocco, qui è lo scirocco, e si prendono in Serra. Cioè, invece di prendere, se ti metti con il vivo, al 50% magari ti mangia una spigola o al 50% un Serra. È diventato quasi uguale. Cioè, è stazione a cui ormai il Serra. Ormai è deguasa. Cioè, ma penso che io da quando poi ho cominciato anche ad andare al mare, ormai ha preso tutto perché, cioè, proprio ha impestato tutta la parte mediterranea, penso, perché è dovunque ormai. Qui nel Tirreno è presente sempre. Cioè, poi, quando è inverno, che c'è un pio di vento caldo, riarriva subito. Neanche il tempo che si alza arriva al Serra. Quindi quest'anno... Stiamo dicendo fino ad autunno. Quest'anno vi hanno mangiato vivi anche dimmerlo, perché in pratica è stato sempre caldo. Ci sono, ci sono. Ormai c'è sempre. Invece, stiamo tornando all'autunno, in mezzo alle lampuche qualche volta capita che si prende qualche lecciamia, soprattutto quando il mare è più forte, più mosso. Questa si pesca sempre con il vivo, l'unica differenza è che le esche saranno diverse. Cioè, stiamo parlando che qui un'esca è il cefalo, ma di dimensioni che partono minimo dai 6 esti, 7 esti, finirei arrivare al chilo, al chilo e due. Solo di esca. Scusa, no, aspetta. Cioè, no, aspetta. Fammi capire perché penso di aver sentito male. Hai detto un chilo e due di esca? Eh, a volte sì. Più è grande e più è facile che lo mangiano. Ma scopo, è una... Cioè, aiuto. Un chilo e due. Sì, metti un bracciolo del 70, di fluorocarbon, con, al finale, due ami dell'8-0 e l'ancorezza, messi tutto questo cefalo. Il mare deve essere moltissimo e condizioni... Cioè, le migliori pescate le fai quando magari c'è il temporale e il mare è forte. Uno non ci andrebbe mai. Però, se ci vai, è probabile che prendi uno di questi pesci, che poi sono molto grandi. Cioè, sono pesci di venti, 30 kg. Intanto ho avuto Valerio un attimo alla mia spalla, che era lì che mi dava una mano con i messaggi anche lui. Fai niente... Comunque l'autunno qui da noi, nel Tirreno, da tutti i pesci possibili e immaginabili. Quello che vuoi pescare, basta spostarsi massimo un'ora di macchina, un'ora e mezza di macchina, peschi tutto. Cioè, dalla spigola, all'orata, alla mormora, alla guia, tutto. Vedo che comunque l'autunno, penso che per ogni tipo di pesca, poi magari qualcuno qua mi... È il periodo migliore un po' per tutto. Dall'acqua dolce all'acqua salata, l'autunno per la pesca, secondo me, è il top. Infatti io sono sempre fregato, perché cosa devi fare poi? Vado al mare a pescare su manganze e roba varie, vado a Lucci, tutto troppo concentrato, tutto in autunno. Al mare, al mare. Al mare, sì. Ormai sono diventato anch'io dipendente da varie pesche. Ah, tu dove abiti? No, io sono di Cantù. Cioè, Matteo è di Milano, noi di solito mare andiamo a pescare. O a Varazze, Rapallo, Liguria, insomma. Poi comunque ho anche amici di Chioggia, però per noi la comodità del fatto della macchina è la Liguria, no? Quindi nella fase autunnale abbiamo l'incognita di o vado al mare per pescare su tutte le robe che arrivano, perché arrivano tutte, sperando in una buona cosa, oppure Lucio e via dice. Cioè, l'autunno è il top per la pesca, secondo me, per tutte le pesche, in generale. Decidi in base a che cosa? Cioè, io anche andavo a pescare nei laghetti, nei fiumi, quando ero più piccolo. Poi ho deciso di andare al mare per il semplice motivo che al mare lanciavo e non sapevo mai che cosa mi abboccava. Cioè, magari... No, è vero. Vai a pescare in terra in Liguria, che c'è un fondale molto alto, e mangia un tonno, per farti capire. Sì, sì, no, no. Cioè, ma anche l'adrenalina, la forza che gli dà un pesce di mare, cioè, pesce di acqua dolce non ce l'ha. Però io, essendo uno che pesca quasi esclusivamente a spinning, anche il Lucio per me è comunque sempre stato il mio pesce. Poi vado anche a torrenti a trote. È una droga, è diventata una droga il fatto di uscire in mare, perché è una droga. Cioè, è un divertimento allucinante. Il problema è che mi si incavallano tutti in quel periodo lì, no? Ho capito. Parlavamo poi, anche che adesso è tornato Valerio, no? Abbiamo fatto una diretta delle zone del Lago del Salto, del Turano, ok? E anche lì, qual è il periodo migliore, Valerio? Settembre-ottobre. Eh! Valerio, tu di dove sei? Di Roma. Ah, di Roma, ok. Io sono originario abruzzese, originario Tagliacozzo. Ah, ok, 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 ok. Quindi, vedi, confermiamo, a seconda di tutte le dirette che facciamo, settembre, ottobre e novembre, sempre top. Poi, oh, magari... Ormai diventano anche novembre, perché con le temperature... Capito? Vado di domande un attimo, perché siete tantissimi, e poi mi piace il fatto di queste dirette, perché c'è uno scambio di idee, che noi parlavamo della Sardina, no? Abbiamo detto, in Sardegna, good. Maurizio dice, in Toscana, presi in serra anche con le triglie, appena pescate, vedi? Triglie appena pescate. Mentre a Cecina, pure con la Sardina. Mi scrive... Sì, a Cecina l'ho sentito dire qualche volta della Sardina. Mi dice, vedi, vedi, che c'è questo scambio, mi piace, bravi. Facciamo questo scambio. Poi, vediamo... Ah, ok, mi dice, Mimmo dice, vabbè, ormai medio-basso adriatico, ci accontentiamo di spigole e serra, altrimenti spendi un patrimonio di esche per momore e orate piccole dimensioni. Vabbè. Purtroppo. Discorso che regge. Sì, 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 discorso che regge. Lo facciamo spesso anche noi, magari quando troviamo i pescatori in giro anche in Liguria. Cioè, non pensare che il basso solo, perché anche la Liguria è talmente tartassata da cose che molto spesso non è così facile. Vabbè, speriamo che si va a migliorare. Poi, in Abruzzo si prende... Ah, questa mi piace. Daniele dice, perché facciamo la... In Abruzzo si prende il serra anche con la rosticino. Spero che sia una battuta perché se è vero... È Caravaggio questo. Sì. Daniele Caravaggio. No, spero che sia una battuta perché se è vero, guarda. Guarda. È una battuta, è una battuta. No, perché se forse è vero vuol dire che il serra ha fiuto proprio, se possiamo dirlo. Diciamo che di solito quando andiamo in comitiva a serra, visto che è una pesca abbastanza statica, che tu lanci e aspetti magari ore e ore, spesso capita di fare una bella arrostita di arrosticini, per cui è una cosa abbastanza comune. forse l'odore potrebbe ripensare un po'. Ma nessuno ha mai provato... Non l'avete mai provato, ecco. Eh, ma proviamo a fare un pezzo di arrosticino, magari scopriamo un'esca diversa. Michele, ciao Michi, ecco che è venuto con noi. Saluti e baci, ma ti saluto, bacio, non so se lo do, vediamo. Dice, a Sestri le prendono anche con la sarda, vedi? Quindi dipende dalla zona, magari dipende anche dall'acqua, che magari il pesce prende, come diceva Lorenzo, magari un sapore diverso e ci sta. A volte è anche un fattore comunque mentale, psicologico, eh, sono convinto. Che tu magari provi quell'esca, la provi una volta, non prendi niente, la provi due volte, non prendi niente e la terza volta non la provi più. Ecco, quindi, magari tu pesca l'hai bocciata, però in realtà è comunque valida, ecco. Sì, questa è una malattia psicologica di tutti i pescatori, eh? Che pescano a spinni, che cosa, e tutti, cioè, tu non... È una malattia in generale, no? Come quando vai, che usi un artificiale, a Corregoni, ti mangia sempre sul nero, dici, allora, tu ti neri, poi il giorno che non ti mangia sul nero non lo prendi più, perché hai fatto un monocolore e quindi, ecco, è... Hai preso pienamente la diretta di ieri sera che l'abbiamo fatta, esatto, che Marco, anche Marco diceva, no? Io c'ho lì 7000 esche, no? Poi magari c'è la moschetta nera che per due volte o tre non mi mangia, non la metto su più e poi mi capita in barca il socio che ha le cose nere e me ne prende 60 di fila, no? Quindi è vero, è una malattia da... Beh, questo è uno, se ha poco tempo comunque cerca di dedicarlo a quello che più ti affida. Sì, è vero. La renicola, e c'ho due ore a pescare con la renicola. Se ho un giorno intero posso mettere anche l'americano. Se con una cosa si pesca di più e hai poco tempo, comunque tendi sempre a mettere quella che ti pesca di più. Allora, continuiamo un attimo. il momento commenti perché mi dice un certo Marco Donzelli adesso ti riporto quello che dice perché qua vogliamo approfondire. Dice Simo, sei troppo serio? Ti preferisco con la birra in mano a pesca di spigole, a pescare le spigole, le storpie. Eh sì, le spigole storpie. Me l'avevo dimenticato. Cioè, aspetta, devo capire che specie è la spigola storpia. Allora, qui vicino da me c'è una foce in cui le spigole, l'80% delle spigole che si prendono hanno la forma della carpa. Quindi... Ma scusa, c'è una centrale nucleare tipo quella di Springfield? Sì, è la foce della centrale nucleare. Ok, no, allora... Ma le mangiate quelle spigole in forma carpa? No, no, mai. Non c'ho il coraggio. Si illuminano di notte. Sono belle. Si illuminano di notte. Un pesce di 4 kg mi dura 40 centimetri. Che è un rotone! Pozzo! Eh, così, così. Ascoltate, poi Antonello Wood dice anche i rombi si possono fare delle belle catture. Quindi è la pesca. non so se l'avete mai fatta. Antonello Wood di rombo ne ha preso uno quest'anno ma io in zona sono anni che non ne vedo prendere uno. Però sì, è un pesce occasionale, invernale che ci sta, insomma. Si può prendere. Però non è che tu dici oggi vado a rombi. No. Ti capita. Ok, quindi non c'è un periodo diciamo che si muovono cioè dici de culo. No, no, no. No, no, sì. Si fa? Sì, nel Tirreno, sì. Io non sono mai stato un grande praticante di questa pesca. Però ne prendono molti con o con gli atterini o con le sardine morte con il cefalo vivo. Quando c'è un forte vento da nord questa volta da nord non c'entra più niente lo scirocco e il mare spiazza comunque lanciando sulle secche queste esche è facile prendere questi pesci. Chiaro. in parecchie la pratica. Ah, bene. Bene. Ah, ops, ho spagliato ho fatto saltare via un attimo il buon Valerio. Allora, poi proseguo nelle... Posso mai una domanda a Lorenzo? Prego, intanto leggo le altre. Vai Valerio. Parliamo prima dell'orale, no? Che le taglie sono piccole in Adriatico. Però se uno poi esce diciamo con la barca qualche animale diciamo importante c'è fuori cioè come mai non si accostano? Guarda questa è la domanda che io mi pongo ormai da diversi anni ossia a largo in determinati punti ci sono bei pesci ma a terra non arrivano io non so che dirti non so che dirti se le reti possono influenzare o e fuori ci sono delle piattaforme non so se per non lo so che cosa sono e lì un momento piattaforme del metano sono si 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 prendono si prendono se ne prendono anche grosse perché lo so per esperienza che ci sono anche le cozze intorno cioè come mai stanno là intorno lì i pali sono foderati di cozze per cui lì diciamo l'habitat naturale per andare a prendere quei pesci ma anche lì sono pesci che ci sono ma non li trovi sempre cioè li trovi o in determinati periodi dell'anno o li trovi ad ore predefinite non è che tu vai un giorno si attacchi alla piattaforma ti metti lì a giocare col granchio con la goga e prendi ora no le prendi magari periodo che va dopo l'estate sicuramente da settembre ottobre alcuni punti nella zona di vasto termo li rifanno anche a dicembre quelle belle 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 però a terra io di orate grosse prese a surf qui da me ne ho viste veramente pochi qualcuna ogni tanto si avvicina magari dopo una mareggiata ok però di norma no purtroppo anche con l'arte lunghi diciamo non ci so certo ok no era curioso perché so che lì non sono espertissimo ma l'idea reti che il pesce grosso se ne sta via potrebbe essere potenzialmente un'ottima soluzione che diciamo che un'orata grossa ne ha fatti di anni quindi probabilmente se trovi un posto dove tu non puoi andarli vicino con le reti e c'è da mangiare magari potrebbe essere non lo so si però aspetta io quando ti parlo di piattaforme del metano che stanno fuori in mare aperto non stanno vicini ma stanno a 7, 8, 10 15 miglia dalla costa per cui ah ok 20, 30 km di distanza dalla costa ah ok ok hanno il loro habitat perfetto allora no però anche le bar che vanno a pesca diciamo sia che siano strascici o piccola pesca reti da posta le orate non le prendono ne prendono poche e niente mentre invece mormore ombrine quello che vuoi gallinelle quello sì quante ne vuoi ma le orate comunque quelle belle ti dico perché poi quelle piccoline si prendono anche pesci da 3-4 etti mezzo chilo se vai a pescare al porto col bigattino in bolognese ma anche a surf te fai però io non capisco perché quelle grandi non arrivano ok allora una domanda qui attenzione perché queste domande sono ho una domanda di Roberto per Simone che dice ma di che scogliere parli per la pesca alla teleferica mi sa che vuole parlo di Terracina eh dai sei stato già porto di Terracina dai bravo porto di Terracina dai è stato anche pensavo boicottasse la domanda invece sei stato bravissimo grande grande vabbè di tutti il male dai dai grande allora poi mi piace questo scambio tra un po' di allegria che fa sempre bene in sto periodo e il problema è che è centrato su Simone Simone devi avere dei fan in questo momento accaniti nel perché dice Francesco Franciamore dice Simone come lo peschi il pesce padulo non voglio saperlo io io non voglio sapere come peschi il pesce padulo se lo vuoi dire non lo so no meglio di no non lo pesco facciamo così allora andiamo avanti facciamo una serietà ah Antonello specifica che aveva fatto due rombi e non uno ecco due rombi quindi fortunata quindi ma invece allora una domanda vai Valerio ma il pesce più strano particolare che avete pescato la spigola a carpa la spigola però adesso noi vogliamo avere una foto prima o poi di questa spigola a carpa per forza ecco dai la pubblichiamo la spigola a carpa dai pesci strani no un tipo tradizionalista diciamo ecco no no pesci strani tipo magari uno va a pescare che ne so e a bocca la cosa che non ti aspetti cioè magari a noi a spinning a volte capita no che andiamo a pescare i persici reali e troviamo un luccio dici ci ho provato tante volte non l'ho mai fatto oggi che non ero magari pronto lo trovo di essere sorpresi da sì magari fai la pesca dai pescare i gronchi d'inverno con la sardina e prendi magari una spigola un'occhiata una corvina queste cose capitano sì a me l'anno scorso ero d'estate stavo provando un campo gara pescando a mormore e sulla magalla ho fatto una spigola di un chilo un chilo e mezzo che proprio ti lascia sorpreso però ecco invece così fuori dal da nulla insomma perché non non te l'aspettavi quindi sì può capitare qualche qualche eccezione così chiaro allora mi scriveva Michele che parlavamo delle piattaforme adesso ho perso un po' i commenti gli hanno detto che non si poteva penso pescare sì no no non si può andare non si può andare ok allora per una corretta e produttiva battuta di pesca quanti arrosticini e quante birre servirebbero questa è una domanda per l'Adriatico dipende per Lorenzo dipende intanto dal numero di partecipanti ecco poi seconda cosa l'arrosticino non va con la birra ma va col Monte Pulciano possibilità ecco perché se no poi dopo gli abruzzesi si offendono e poi dipende da quanto è lunga questa sezione di pesca comunque in genere per una cosa fatta bene si considerano 50 arrosticini cada uno a persona un litro di vino a testa 50 arrosticini per chi non lo sapesse pesano un chilo tondito poca vacca perfetto allora torniamo zona pesca dai seri abbiamo fatto l'escursus capita di pescare anche il pesce pettine a surf io un video l'ho visto effettivamente nell'Adriatico no però nel Tirreno Sud soprattutto sì ok chiedono anche San Pietro e Gallinelle magari se si può dire qualcosa su come prenderli con pesca piuttosto che un'altra non lo so ve la lascio San Pietro San Pietro è difficile San Pietro non è un po' San Pietro a meno che non va in qualche isola tipo in Corsica o in Sardegna che puoi pescare su un fondale molto fondo e allora lo puoi prendere ma il restante dovunque va insomma un San Pietro è difficilissimo la Gallinella invece sì abbiamo detto anche prima la Gallinella nell'Adriatico pesce autunnale poi dopo anni ce ne sono di più anni ce ne sono meno comunque loro amano la Sarda con la Sardina o con la Guglia a tranci ok poi chiede anche Musde che penso che sia la Mosdella quindi sì allora la Musdella è altro pesce che potrebbe essere occasionale ma è difficile prenderlo in spiaggia ecco molto difficile perché sono pesci che amano il fondale quelli sono pesci più da Bolentino che da self-casting ecco ok perfetto quindi sì anche il San Pietro è un pesce abbastanza di profondità per ecco questa vabbè ok passiamo un attimo poi andiamo magari ai lanci come diciamo prima per chi non lo sapesse come funziona una gara self-casting è semplice allora una gara di self-casting consiste per un pescatore che ha a disposizione quattro ore quattro ore dovrà pescare il maggior numero di pesci quindi un peso che dipende da una tabella di conversione quindi se si pesca per fare un esempio una mormola di 20 centimetri vale 200 punti ok quindi chi più punti fa nell'arco di quelle quattro ore vince la gara molto spesso si praticano queste gare in settori da 10 persone anzi quasi sempre se la gara è individuale il settore è da 10 persone la postazione viene scelta in base a un sorteggio che si farà tramite un programma ok comunque consiste chi prende un pesce più dell'altro nella maggior parte delle volte dopo una canna sola in poche parole si si con una canna sola massimo tre ami si possono utilizzare vai vai continuate no no vabbè intanto stai dicendo le cose giuste anche tu vai vai prosegui prosegui mi piace quando il regolamento prevede l'utilizzo massimo di tre ami cioè nella maggior parte delle volte si usano comunque un agonista usa tre ami perché ha più possibilità comunque si cerca di prendere il maggior numero di pesci e di vincere la gara ecco non è una cosa difficilissima per chi ti vuole avvicinare è semplice ci si iscrive un'associazione e si comincia a fare le gare perfetto ascoltate chiedono il pesce più combattivo che avete mai preso dalla spiaggia dalla spiaggia io penso che sia il Serra ok Simone allora per quanto riguarda l'attrezzatura con cui viene preso quindi terminali molto sottili e comunque canne molto morbide comunque l'assetto di pesca molto leggero il pesce più combattivo che si prende dalla spiaggia secondo me è la leccia stella di dimensioni comunque parla di pesci da 30-40 cm non è quello che tira di più con le attrezzature molto leggere è un buon divertimento prendere un pesce del genere perché per prenderlo spesso utilizzi attrezzature leggere per cui pesce di taglia media con attrezzature leggere ti regalano delle belle molte soddisfazioni chiaro poi il Serra comunque c'ha una stazza e tira chiaro con altre attrezzature valerio ti oscuro un secondo che mando intanto un video ancora un secondo tu sei lì sempre non sparire io passerei a quello che dicevo prima se volete visto che poi magari qualcuno vede il video e non è cioè il lancio nel softcasting io vedo quando perché non ci ho mai pescato però andando al mare a spin li vedono ecco in questo momento stiamo facendo dare il video questo i lanci sono tipi di lanci diversi da memoria vogliamo dire qualcosa per chi ci segue come si fa intanto non è faccia in quanto ci mette uno a imparare a lanciare a softcasting se volessi iniziare non si inisce mai di imparare ok comunque quando hai imparato devi migliorare quindi è una continua evoluzione non è per iniziare a pescare insomma il lancio lo impari abbastanza subito per perfezionarlo e per essere soddisfatto del lavoro che stai facendo sicuramente occorrono anni ma occorre qualcuno che ti insegni perché se no non è facile da imparare come autodidatta ecco no è chiaro è chiaro vedevo che anche nelle immagini c'è chi lancia con la canna adesso la faccio proprio grezza chi lancia con la canna dietro chi lancia con la canna un po' più laterale cioè quanti tipi di lanci ci sono che cambiano nel softcasting eh ci sono tre quattro tipi di lancio che diciamo che sono quelli più usati intanto si differenziano con i lanci sospesi che sono tutti quei lanci in cui il piombo comunque non tocca a terra ma rimane in aria quindi il lancio pendolare l'aeroground e poi ci sono diversi lanci fatti come piombo a terra il più semplice quello da cui si parte in genere quando si inizia a pescare è il lancio la above quindi il lancio da sopra alla testa appoggi il piombo dietro la testa alzi la canna e tiri avanti è il lancio più semplice diciamo poi c'è il lancio inside che è un lancio in cui si inizia a fare una tortazione del busto e delle braccia più o meno accentuata con la canna che ruota lateralmente e poi c'è il ground che a mio avviso è praticamente un'estremizzazione del side quindi un giro un po' più ampio un movimento un po' più complicato ma sono lanci abbastanza simili ma vengono eseguiti un po' diversamente poi Simone a lanciare spacca no ecco Simone quante possibilità ho nel fare i primi lanci di spaccare una canna guarda ti dico è più facile spaccare una canna quando non si sa lanciare che romperla quando si sa lanciare perché magari fai un ground e vai tu la canna solo con il destro la canna automaticamente si rompe per la botta che prende invece se un pescatore comunque sa lanciare e la canna si rompe o la canna è arrivata al massimo delle sue possibilità e quindi cede o comunque se una canna nuova ha un difetto oppure ti chiami Simone Paniconi che è un animale quindi c'è proprio forzi pieno perché se dice così se devi lanciare lanci no è vero Simone se ti capita a fianco e stai facendo una gara ce l'hai a fianco e la gara è a pesce a lunga distanza allora o vai e gli rompi una gamba quando è distratto puoi anche aspirare al secondo posto che va bene lo stesso allora dicevo che infatto quanto a lanci Stefano ci dice quanto conta la tecnica di lancio nella pesca surfcasting eh mi sa parecchio praticamente al di là dell'attrezzatura che comunque conta la tecnica e la maestria conta per fare bel ancio almeno un 60 se 70% e in più chiede sempre Stefano da profano pesca di più chi lancia più fuori o bisogna comunque individuare il taglio dell'onda e pescarci prima o dopo comunque in una zona diversa allora lancio fuori serve quando il pesce è fuori se no poi il pesce lo puoi prendere anche a un metro di distanza a 10 metri per cui il pesce va cercato ovvio che chi lancia più lontano lo può cercare anche più lontano Simone lo cerca lontanissimo quando bisogna cercare lontano lo cerco lontano ascolta ma adesso adesso arrivava la mia domanda che c'ho in mente ma a quanto cacchio arrivate lontano in sti lanci no non su un allenamento su un campo quindi che è solo piombo lanciato con il vento a favore comunque con tutte le condizioni a favore si riescono a fare delle distanze anche di 230 240 metri per un pescatore no parlo di pescatore perché poi ci sono i longcaster che fanno molto di più cioè sono arrivati anche a 270 metri quest'anno vabbè facciamo una cosa in pesca invece esatto in pesca secondo me la mia opinione è un grande lanciatore 150 metri non di più con due ami con tre ami neanche Lorenzo un tono con le distanze da campo un lanciatore eccelso si aggiri su quelle distanze 140 150 metri pescatore normale che comunque sappia lanciare bene dai 100 ai 110 120 metri comunque non sono pochi poi magari la gente pensa di fare molti più metri molta più distanza perché conto e giri perché vede i colori ma no sono quelle per fare per superare i 100 metri comunque alle canne occorre sapergli dare delle belle botte perché se no non camminano i piombi no infatti stavo mandando un video che avete fatto chiaramente sullo stretto dove stavano facendo proprio le prove dove stavate facendo le prove si vedeva proprio bene il movimento della canna il movimento anche della persona perché anche quello cioè è anche un'ottica non è che anche a pescare a casting a spinning devi fare un po' di pratica però lì usi tutto il corpo cioè c'è proprio una tecnica particolare di lancio quindi non è scontata vabbè diciamo che chi fa proprio gare di non casting per loro è proprio una filosofia di vita cioè gente che si allese due o tre volte a settimana che ci fa palestra che è proprio un cioè come lo faccio io come lo fa Simone vabbè c'è sempre una tecnica dietro una tecnica sempre una tecnica sempre però poi per fare quelle distanze che dicevi tu due cinquanta due sessanta occorre avere tecnica occorre avere massa massa corporea e occorre avere poi a tutti i doni perché se no sono distanze veramente enormi è dura vabbè guarda dopo la quarantena di massa ne ho messa quanto ne vuoi posso slanciare anch'io duecentocinquanta metri penso no duecentocinquanta metri fidati ho messo talmente tanta massa che solo la rotazione del mio che vado fuori proprio alla grande se mi tengono in casa ancora un mese siamo finiti lancio anche trecento metri lancio anche trecento metri cavo oh io adesso guardo se ci sono ma abbiamo fatto senza volerlo un'ora e mezza proprio non ve ne siete accorti vedete e questo mi piace perché di solito piace anche alla gente perché è bello fare queste dirette per quel motivo qua cioè non ce ne si accorge minimamente Valerio qualche domanda ancora hai io ero curioso più che altro su due pesci non so se si vendono poi a self casting sulla lampuga e sulla tracina ecco la lampuga te la sei persa prima no me la sono persa vai vai la lampuga si nelle zone tirreniche come ecco se tu sei di Roma qui a Latina te l'ho chiesto lì Anzio e Nettuno pure so che si Anzio e Nettuno anche si prendono solo che a self casting pescando con la teleferica dei scogli con l'esca viva con la guglia nel periodo che va metà ottobre ai primi di novembre c'è una buona possibilità di prenderle anche di buona taglia la tecnica che hai spiegato prima per i serra si bravo perché tu sei arrivato un attimo in ritardo l'abbiamo proprio parlato appena appena arrivavi quindi perfetta la domanda tracina hai chiesto poi sì tracina eh tracina è un pesce che voglio dire bene o male si prende in tutta Italia quindi dove vai vai e rischi di prenderla però proprio una pesca specifica alla tracina non c'è se non che cercarla nei primi metri della riva ma io ti parlo delle piccole tracine o tu parli delle tracine quelle grandi allora a me mi è capito di prendere una tracina enorme ma dove in Calabria in Calabria dalla spiaggia ecco dalla barca eh sì però ero curioso pure di sapere insomma su che schemi mangia cioè che tipo di pesce perché non lo conosco mangiano tutto tutto dai vermi alla sardina al calamaro mangia di tutto in pratica specialmente quello che si muove io lo a volte anche a traina ti mangiano col vivo ti vanno ti vanno si mangiano tutto mangiano comunque sono dei predatori ecco e in Croazia per esempio ci sono le tracine grosse tracine drago le chiamano sono pesci che arrivano anche a un chilo sono anche pesci molto buoni pesci pregiati no abbiamo perso timone è caduto un attimo vabbè niente adesso lo recuperiamo eh vabbè intanto mi chiedono a me massa o ciccia è uguale non cambia niente sempre massa è non stargli a identificare bene la cosa cioè ha detto che serve massa per lanciare io ne ho messo su un bordello quindi lancio a 300 metri questo è sui cattiviere che gli abbiamo detto Andrè eh questo è sui cattiviere che gli abbiamo detto sì sì esatto si deve mi sentite adesso sì sì ci sei non so perché non sentivo più niente si è verso una era caduto la linea ci siamo guardate dimmi no dicevo a lui che l'unica cosa diversa dal Serra è che per il Serra ci vuole il cavetto d'acciaio mentre per le lampuche ci metti il cavetto è difficile prenderle quindi diciamo che con un 40 diretto vai bene le prende sì sì le lampuche sono particolarmente stronze nel senso anche quando vai a spinning e le vedi alla barca eh magari sei in 4 in barca che peschi uno riesci a prendere gli altri no perché cambia magari il modo anche solo di muovere leggermente le esche sono veramente delle stronze bastarde le lampuche una cosa incredibile però sono fantastiche per quello allora io ragazzi vi devo ringraziare tantissimo siete stati grandiosi cioè poi Simone aveva un tifo che di birra e roba varia quindi anche Lorenzo visto tra l'altro Michele quando avete parlato che Michele è un socio che viene a pescare ci troviamo a pescare ci siamo trovati in Svezia quando avete parlato di arrosticini ha detto vengo anch'io se sono 50 testa e beh ma penso che si identificavano e 50 testa proprio allora io tra l'altro ho un collega di lavoro che lui è molisa cioè proprio delle zone degli arrosticini pieni mi fa una capa come li hai cucinati gli arrosticini no non si cucinano così cioè proprio l'arte dell'arrosticino è certo è certo ognuno il suo mestiere esatto l'arte dell'arrosticino io li amo tantissimi abbiamo riperso Simone io volevo salutare tutti insieme vediamo se rientra nel breve e poi come ho detto a tutti se vi è piaciuto poi noi vorremmo tenerle queste cose magari ci rivedremo in un'altra diretta sperando magari fuori quarantena ci mettiamo d'accordo magari anche quando siete a pescare che potete volete o potete fare una diretta speriamo di mantenere un po' no non un'ora e mezza però no è chiaro in pesca si deve pescare tra l'altro anche noi le facciamo quando andiamo sulle mangianze ma è quel dieci minuti per far vedere perché siamo lì poi dopo si pesca non è che si può fare non sentivo più eh ti abbiamo perso non sentivo più niente penso che mentre uno pesca sono le peggio cose che possono capitare o no quando pesco il telefono spesso non rispondo e allora i miei che mi chiamano anche mia moglie ma perché non rispondi al telefono perché no perché sto a pesca e non rispondo punto su quello allora chiudiamo con perché dicevo Simone stai con noi non perdete che così ho detto che ho ringraziato che ho detto che magari ci ritroveremo in diretta non magari dai la mettiamo lì che magari in costanza di un tot facciamo qualche diretta di presentazione di cose nuove magari di qualche tecnica particolare Sam la tengo lì un attimo perché dice viva la per chiudere secondo me ha scritto la farina però non vorrei sbagliarmi dite che le tracine grandi sono pericolose eh sì 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 possono pungere anche da morte da morte anche da un giorno se le prendi male le maneggi male e te ti possono pungere cioè sei tu che ti pungi in pratica esatto bisogna sempre stare attenti quindi eh ricordate la tracina non solo la tracina perché poi anche il San Pietro però la tracina visto che uno dice quel povero pesciolino qua cosa pensa che sia invece quelle fanno un male cane quindi state attenti vi ringrazio ancora eh Valerio tu vieni con me dopo se puoi ti aspetto ci vediamo alle nove cioè vi dovete vedere la mia brutta faccia da uovo di Pasqua come dice Matteo perché sto ingrassando come un porco eh e facciamo pesca al perca nelle zone mie nel lago di Como o comunque nei laghi nelle zone mie vi ringrazio grazie Lorenzo grazie a voi grazie a voi ci sono dei simpaticissimi e grandi ciao a tutti ci vediamo dopo ciao ragazzi grazie ciao ciao